gli immobili ti piacciono oggi come ogni mercoledì torniamo a parlare di immobili a modo mio però infatti andiamo a parlare di riz real estate investment trust e in questo caso per la volta in vita mia vado a trattare aziende italiane a dire la verità è stato molto difficile trovarle e quelle poche che ci sono non è che siano proprio un granché però avevo proprio tanto voglia di fare questo video perché è giusto che anche il mercato italiano trovi il suo spazio all'interno del palinsesto che da poco ho messo su per il mio canale per scoprire però di quali rizzi italiani a parlare devi aspettare la fine della sigla ciao bentornato sul canale io come sempre sono pasquale e questo è io risparmio il canale del tuo amichevole investitore e risparmiatore della porta accanto rizza le orecchie ritorna come ogni mercoledì questa volta siamo nella nostra terra madre l'italia la terra dei compratori di immobili seriali quella in cui se non compri casa sei messo malissimo anche se hai 30 milioni di euro in banca non capisco ancora questa connessione vabbè comunque ognuno la pensi come vuole oggi andiamo a parlare di alcune aziende immobiliari quotate in borsa i cosiddetti riz che in italiano vengono definiti in un modo un po diverso queste società sono cosiddette società di investimento immobiliare quotate definite con l'acronimo siiq per essere sic vogliamo accorciare ancora di più in italia bisogna rispondere a dei seguenti requisiti che sono imprescindibili gli azionisti di controllo non potranno avere mai una quota superiore al 51 per cento il 35 per cento delle quote deve essere in mano a singoli azionisti che non detencano più dell'1 per cento ciascuno l'80 per cento dell'attivo deve essere investito in immobili da locazione e l'80 per cento dei proventi deve derivare dalla locazione infine la società deve distribuire ogni anno almeno l'85 per cento dei utili ottenuti dalla gestione da quello che mi risulta dagli studi che ho fatto nel momento ci sono solo cinque aziende che raggiungono questi parametri nel video di oggi ne vado a parlare solo di tre perché per quello che vedo la situazione in italia è ancora in uno stato embrionale dal punto di vista di riz e non mi tento assolutamente di analizzare aziende nelle quali io non ci metterei un soldo anzi di queste tre sinceramente una non l'avrei neanche messa comunque andiamo a parlare di riz e andiamo a parlare della regina dei riz italiani tutti quanti la conoscerete si chiama coima res azienda fondata nel 2015 e quotata alla borsa italiana dal 2016 la strategia di coima res è focalizzata sullo sviluppo e sulla gestione attiva di un portafoglio immobiliare di alta qualità ad alto contenuto di sostenibilità che è posizionato per soddisfare la domanda attuale e futura dei propri inquilini attualmente coima res possiede e gestisce un portafoglio immobiliare concentrato principalmente nel segmento uffici nella città di milano al 30 settembre 2021 il portafoglio era composto da 8 immobili a uso prevalentemente di ufficio con sede a milano e 58 filiali bancari dislocate nel nord e nel centro italia il proprio portafoglio valutato all'incirca in 646 milioni di dollari su base pro quota di cui il 91 per cento a milano il 58 per cento a milano portanova e l'86 per cento per uffici il portafoglio di coima res ha un alto profilo di sostenibilità circa il 65 per cento del portafoglio lo è attualmente certificato con lead il portafoglio invece di inquilini di coima res è composto principalmente da multinazionali di medie e grandi e grandissime dimensioni l'enco dei 10 maggiori inquilini che rappresentano alla fine l'89 per cento dell'attuale profitto su base pro quota include nomi enormi come vodafone il gruppo sisal quello che ti fa perdere soldi giocando al superendalotto deutsche bank bmp paribas microsoft ibm accenture technet nh hotel e bernoni grand tornod la seconda azienda è immobiliare grande distribuzione sic spa fino a poco tempo fa conosciuta come immobiliare grande distribuzione società di investimento immobiliare quotata spa nome più corto non lo potevano trovare la società è attiva principalmente nell'acquisto sviluppo gestione e locazione di immobili inoltre fornisce vari servizi relativi al settore immobiliare inclusa la promozione di centri di nuova apertura ampliati o ristrutturati la rotazione dei rivenditori esistenti e i servizi di facility management come ad esempio la sicurezza la pulizia e la mantenzione ordinare dei propri immobili si tratta della prima azienda italiana ad essere diventata una sic ad oggi l'azienda possiede circa 50 immobili d'italia di cui 25 sono centri commerciali e 25 sono ipermercati questi valgono il 90 per cento del totale del valore del portafoglio immobiliare che è di 2 miliardi e 300 milioni di euro un ulteriore 6 per cento è composto da 14 centri commerciali che sono presenti invece di domania e invece un 4 per cento sono dei progetti che sono ancora in fase di sviluppo a parte quattro strutture in sicilia e due in campagna la restante parte di questi 50 immobili sul territorio italiano sono distribuiti e concentrati nel centro nord della nostra perisola con la maggiore concentrazione che è in emilia romagna guarda un po dove vivo io che fortuna che addirittura ne ha 22 cosa interessante è la disposizione degli investitori istituzionali black rock occupa il 42 per cento mentre il 22 per cento è di banca minolanum e della banca d'italia ultima azienda di oggi si chiama aedes sic fondata e contestualmente quotata al mercato telematico azionario di borsa italiana a seguito della scizione parziale proporzionale di un'altra sic che adesso non è più sic che si chiama restart società immobiliare che era stata fondata nel 1905 ed è quotata alla borsa di milano dal 1924 questa operazione è avvenuta il 28 dicembre del 2018 aedes sic ha un portafoglio immobiliare di reddito a sviluppo da sviluppare e da mettere a reddito in linea con una strategia di una sic con destinazione di tipo commerciale per cui prevalentemente sono retail ed offices la strategia di aedes ha come obiettivo la creazione e il mantenimento del medio lungo periodo di un portafoglio immobiliare a reddito con destinazioni commerciale prevalentemente retail e office che però debba ricorrere ad un indebitamento in misura sostenibile e tare sempre da generare flussi di cassa coerenti con il modello sic il cash flow ricorrente deriva sia dagli immobili già di proprietà con destinazioni retail e uffici e attualmente a reddito o in fase di commercializzazione sia anche dalle aree che verranno sviluppate in house per realizzare immobili a reddito con destinazione come dicevamo prima principalmente retail attualmente posseggono 13 unità immobiliari di cui 5 sono adibiti ad uffici 6 adibiti a retail e in particolare c'è anche l'outlet di serravalle per chi non lo conoscesse è particolarmente grande e molto famoso le ultime due unità immobiliari di proprietà sono invece degli hotel di cui uno facendo parte di un golf club ci sono anche altri due progetti in fase di costruzione in questo caso anche sono commerciali per cui retail uno a san marino che chiamato outlet experience e l'altro a caselle chiamato caselle open mall bene se il video è stato di il tuo gradimento metti un bel pollice in su e se sei nuovo sul canale ti invito a iscriverti a questo canale a cliccare la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornato sui miei prossimi video ovviamente non ti dirò quale delle tre aziende non mi rasta proprio a genio ma comunque spero che possa intendersi che cerco di non essere di parte rizza le orecchie torna mercoledì prossimo come ogni mercoledì noi domani ci vediamo con un altro video e anche per oggi è tutto ciao 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 ciao